L'esperienza afroamericana per me è stata principalmente molto buona, anche se ho delle difficoltà a scendere nel dettaglio, visto che non ho più molto desiderio di uscire di casa da un bel po'. Siamo diventati così pantofolari. Sì, sì, ma anche quando si va in città, semplicemente non sono interessato. Le pulizie domestiche sono il mio rifugio. Porca puttana. Scappa! Scusa, amica. Logan! Scappa! Io! La cazzo! Io, rilassati! Scappa! Stai caldo, non toccalo! Aspetta, non toccalo! Hermie, perché non lasciamo il palco a qualcun altro per un po'? Che dici? Esci con mia sorella, giusto? Esci con mia sorella, tu hai avuto più tempo. Non posso conoscerlo meglio? Tipo la UFC? Esatto. No, troppo brutale per me. Da piccolo hai fatto a botte per strada. Facevo giudo in prima elementare, dopo la scuola. Ero forte. Giudo. Con il tuo corredo genetico e la struttura del tuo corpo, se ti ci mettessi sotto davvero, cioè se ti allenassi di brutto, insomma, basta stronzate, diventeresti una cazzo di bestia. Torta alle carote! Uh, zero! Torta alle carote! Che mi sono persa! Un mucchio di stupidaggine! Stavamo solo parlando di sport! Vero? Già. Mi sembra bello. Il problema del giocchizzo è che la forza non importa, capito? È tutto nella mente.